Arla è un mese e mezzo che stiamo agli arresti domiciliari io non la faccio più, ormai parlo con i muri Ma sai però, fai sempre pesante basta organizzare, fai un hobby di qua un passatempo di là, qualche sfizio ecco la quarantena è passata Che ti vuoi inventare? Io ormai ho fatto di tutto ho fatto tutto quello che si poteva fare Cucina, mettete a cucinare sei sempre stato bravo, sfrutta sta cosa Sì, ciao Da quando tutto è cominciato ho panificato, sfornato cucinato, impiattato, sperimentato Ormai ho anche un servizio di delivery per quello che è diventato a tutti gli effetti un homemade restaurant Gli affari vanno anche bene, ma non ce la faccio più Ho perso il piacere anche per quello Dovresti dedicarti a qualcosa che magari hai sempre voluto fare, però non hai mai avuto il tempo Io per esempio sto imparando lo spagnolo Hola Alejandro Lo smart working, chissà Io non vedo l'ora che arriva quel momento della giornata dove metto là seduto davanti al computer con i miei fogli excel, i miei colleghi in videoconferent sai con la che si è fatta una gioca Ma hanno licenziato Guarda Eh sì, clava, c'è stava cinzia quella delle patto marketing che gli era presa che praticamente si presentava nuda e tu capisci che recluso dentro quattro mura da 40 giorni mi si è chiusa la pina e mi è scattato il celluletto No, no, vabbè, no mica io ho fatto così ho fatto più una cosa... così Complimenti la maleducazione dei suoi ormoni è senza precedenti Vabbè, senti, in questo periodo dovrà un uccelliente di meglio che allenarsi e rimettersi in forma forse non ci siamo capiti io so diventato un'unico fascia dei nervi e muscoli so praticamente il mix tra The Rocker e Nociolina Vabbè, sa, fai quello che abbiamo sempre voluto fare tutti quanti nella vita ti butti sul divano e ti guardi qualche serie streaming Con i soldi guadagnati con l'home restaurant ho sottoscritto abbonamenti a qualsiasi piattaforma streaming Netflix, Prime, Disney+, Team Vision, Civi, Rakuten, Infinity, No TV, E-Play Tutti, l'ho finiti tutti Nessuno era mai riuscito a terminare tutti i cataloghi Nessuno Pensa che ho anche ricevuto dei premi Una coppa da Prime Video Una maschera originale di Dalì, direttamente da Netflix E poi lui, un meraviglioso lozzo da Disney+. Pensa che profuma anche di fragole Senti, sa, ritrova un po' di intimità con te stesso Cioè? Ammazzatevi Tanta cellulola avvicinata e le mani piene da mochina A mia cellulosa Ho già stato critico dei miei fratelli al ritmo di 2 al giorno Ma non volete capire? Noi non siamo fatti per il vostro diletto Non siamo nate per questo Non posso capire un utilizzo borderline per pulizzo il naso Ma noi siamo fatti per il culo Oh, ce lo sa proprio Noi non siamo fatti per pulizzo il naso Noi non siamo fatti per pulizzo il naso Noi non siamo fatti per pulizzo il naso Noi non siamo fatti per pulizzo il naso